36esima edizione del premio qualità della vita, il comitato per la qualità della vita ha l'onore questa mattina Frutta e verdura a chilometro zero è una vassa scelta di carni accuratamente selezionate e controllate Eurospin di Marina di Ginosa, valorizziamo il nostro territorio Di consegnare questo ormai diventato prestigioso premio alla Corte Costituzionale Una consegna che avvia un grande progetto, cittadini si diventa nel solco della nostra Costituzione Un evento quindi che coinvolge gli studenti e saranno centinaia gli studenti che si collegheranno e che seguiranno l'evento Ma saranno anche non solo gli studenti della scuola secondaria ionica ma anche della nostra università Con particolare riferimento al corso di laurea di giurisprudenza Quindi un grande evento che noi ci auguriamo possa segnare una svolta per una tanto universitaria Culla della cultura Grazie 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 Grazie